Questa unità didattica è dedicata alla implementazione in prologue della Depth First Limited. Prima di andare a vedere facciamo però una considerazione sulla rappresentazione del database dello spazio degli stati. Abbiamo visto che possiamo semplicemente considerare il fatto che gli archi erano bidirezionali raddoppiando il numero dei fatti che rappresentano il database. Quindi per ogni coppia di città se abbiamo un arco che va dalla città X alla città Y possiamo esplicitamente rappresentare l'arco inverso, quello che va dalla città Y alla città X. Però siccome questo è vero per tutte le città, tutte le coppie, tutte le strade sono bidirezionali si poteva anche pensare di fare una sola clausola per invertire il senso di marcia per ciascun arco. Quindi invece che dire è per ogni arco che c'era l'arco inverso, dati tutti gli archi, consideriamo una sola clausola che dice che se si può andare da una città Y a una città X, allora si può andare anche dalla città X alla città Y. Quindi adesso vediamo, abbiamo compilato, vi ricordo che c'erano dieci percorsi per andare da Arad a Bucharest che sono elencati qui, l'ho lanciato poco fa, adesso vediamo con un trace cosa succede se invece di utilizzare esplicitamente la rappresentazione bidirezionale degli archi utilizziamo una sola clausola per gestire la bidirezionalità di tutti gli archi. Se lanciamo lo stesso goal, lanciamo quindi la depth first, Arad non è la destinazione, vediamo dove si può andare da Arad, da Arad si può andare a Zerind, a Zerind non ci siamo stati, e quindi andiamo a vedere se Zerind non è la destinazione, da Zerind si può andare a Oradea, a Oradea non ci siamo stati, Oradea non è la destinazione, da Oradea si può andare a Sibiu, a Sibiu non ci siamo stati, Sibiu non è la destinazione, da Sibiu si può andare a Fagras, A Fagras non ci siamo stati, Fagras non è la destinazione, da Fagras si può andare a Bucharest, a Bucharest non ci siamo stati, Bucharest è la destinazione, il percorso a questo punto è bello che è trovato. Eccolo qui, quindi il percorso è trovato, quello che dobbiamo fare sarà a questo punto invertirlo, adesso non entriamo dentro il predicato per le inversioni, l'abbiamo già visto nelle unità didattiche precedenti, invertiamo il percorso e lo restituiamo, ed ecco qui è restituito il percorso. Se poi però adesso andiamo a cercare un'altra soluzione, cosa succede? Succede che si cerca, si fa fallire la clausola, l'ultima clausola, quella che aveva matchato con Bucharest destinazione e quindi si va a vedere se da Bucharest si può andare da qualche parte, da Bucharest si può andare a Urziceni, a Urziceni non ci siamo stati, Urziceni non è la destinazione, si va a vedere dove si può andare da Urziceni, da Urziceni si può andare a Irsova, a Irsova non ci siamo stati, Irsova non è la destinazione, andiamo a vedere dove si può andare da Irsova. Irsova si può andare a Eforie, attenzione, da Eforie come vedete non si può andare più da nessuna parte, abbiamo raggiunto i confini dell'Atlante, comunque a Eforie non ci siamo stati, Eforie non è la destinazione, a questo punto ci chiediamo dove si può andare da Eforie? Ecco, allora da Eforie non si può andare su una parte per cui parte la seconda clausola, quello che dice che se si poteva andare da Irsova a Irsova, allora adesso si potrà andare da Eforie a Irsova, esatto, e quindi a questo punto da Eforie si può andare a Irsova, ma a Irsova ci siamo stati? Sì, sì, siamo stati, quindi fallisce, allora ci chiediamo dove si può andare alternativamente da Eforie, da Irsova si può andare a Irsova, ma da Irsova si può andare a Eforie e quindi da Irsova appunto si può andare a Eforie, e allora come vedete, che cosa succede? Succede che noi a Irsova ci siamo già stati e anche a Eforie fallisce, ci chiediamo dove si può andare, si può andare da Irsova a Eforie, e quindi si può andare da Irsova a Eforie, e sostanzialmente stiamo andando in loop, ci chiediamo a questo punto se a Irsova ci siamo stati, sì, ci siamo stati, e quindi dobbiamo cercare un'altra soluzione, in pratica così facendo si va in un loop infinito, che dovrebbe prima o poi arrivare alla saturazione dello stack, ma a causa del fatto che questa particolare implementazione che abbiamo dato al predicato S è di fatto una implementazione inter-recursion, in pratica siamo andati in un while infinito, e non si può uscire da questa situazione se non a questo punto chiudendo e facendo abortire la computazione. si può uscire da questa situazione, e cioè si può modificare le cose, disgiungendo le due clausole S, quelle che esplicitamente contengono i nomi delle città, dalla clausola S ricorsita, con un cut, è un cut green, perché è un indicato dell'operazione che stavamo facendo, del sindicato dichiarativo del predicato S, a questo punto abbiamo disgiunto le due clausole, per cui, per andare da una città A a una città B, o si prende effettivamente il fatto che le collega in quest'ordine A e B, o si prende la seconda, è quella che dice che, ok, se posso andare da A a B, se posso andare da B ad A, o si prende la seconda, dicevo, però, una volta che si è presa la seconda, non si può più considerare ricorsivamente di prendere la prima, perché le due clausole sono state così facendo disgiunte. Vediamo, compiliamo, e rifacciamo il trace, vediamo cosa succede. Allora, tutto come prima, Arad non è la destinazione, per cui andiamo a vedere dove si può andare da Arad, si può andare a Zerid, non ci siamo già stati, e quindi non è la destinazione, da Zerid si può andare a Oradea, non ci siamo stati, non è la destinazione, da Oradea si può andare a Sibiu, non ci siamo stati, non è la destinazione, da Sibiu si può andare a Fagaras, non ci siamo stati, non è la destinazione, da Fagaras si può andare a Bucharest, non ci siamo stati, è la destinazione, e quindi viene restituito il percorso tutto esattamente come nel caso precedente, si può a questo punto invertire il percorso, il percorso viene restituito, adesso il problema nasceva quando andavamo a chiedere un'altra soluzione, un altro percorso, vi ricordo che ce ne sono altre di 9, vediamo cosa succede adesso dunque dobbiamo cercare, a questo punto fallisce l'istanziazione Bucharest destinazione, quindi andiamo sull'altra clausa di depth first, andiamo a vedere dove si può andare da Bucharest, da Bucharest si può andare a Urziceni, tutto come prima, a Urziceni non ci siamo stati da dove si può andare da Urziceni, non è la destinazione, si può andare a Irsova a Irsova non ci siamo ancora andati, non è la destinazione da Irsova si può andare a Eforie a Eforie non ci siamo stati ancora non è la destinazione Eforie a questo punto da Irsova si può andare su una parte e partiva la clausola, quella ricorsiva che diceva che da Irsova si poteva tornare a Irsova eccola qui io ero andato a Irsova passando per Irsova e ero andato a Eforie passando per Irsova adesso da Irsova da Irsova andrò a Irsova ecco qui Irsova, Y e Irsova cut allora a questo punto abbiamo fatto il cut quindi andiamo a vedere se a Irsova ci siamo già stati sì, ha successo e quindi no, chiedo scusa, a Irsova ancora non ci eravamo stati e adesso andiamo a vedere cut di nuovo dove possiamo andare da Irsova da Irsova possiamo andare a Urziceni quindi non ne siamo andati in loop e da Urziceni andiamo a Valsui e vedete che il loop l'abbiamo evitato a Valsui non ci siamo stati Valsui non è la destinazione vediamo dove possiamo andare da Valsui si può andare a Yasi a Yasi non ci siamo stati ma non è la destinazione dove si può andare da Yasi da Yasi si può andare a Neamt non ci siamo stati non è la destinazione da Neamt si può tornare indietro e andare a Yasi cut però a Yasi c'eravamo stati quindi si fa fallire si torna al passo precedente da dove possiamo andare da Valsui se c'è tutto un backtracking che parte e la cosa importante da capire è che abbiamo evitato se ci sono altre strade da Bucharest come vedete adesso Bucharest non c'è più si cerca un'altra strada da Fagaras da Fagaras si poteva andare a Sibu si torna indietro addirittura a questo punto da Orodea si va a Sibu da Sibu si va a Riminico Vilcea da Riminico Vilcea si va a Craiova e da Pitesti si va a Pitesti e da Pitesti in pratica abbiamo così facendo trovato l'altro percorso il secondo percorso che trovavamo prima e abbiamo così facendo il loop disgiungendo con il cut le due clausole quindi abbiamo visto un altro uso del cut bene vediamo adesso allora la depth limited che vi ricordo sarebbe una ricerca in profondità però con un limite sulla profondità ovviamente questo limite serve per evitare di incappare appunto come abbiamo fatto prima in cicli infiniti o in cicli infiniti oppure anche in rami infiniti come più in generale potrebbe accadere nel caso in cui lo spazio degli stati fosse costituito dal numero anche infinito di stati potrebbe capitare di andare in un ramo infinito quindi noi possiamo implementare la depth limited in due modi o facendo uso di un accumulatore o non facendo uso di un accumulatore vediamo prima questo secondo caso abbiamo quindi un predicato depth limited con tre argomenti il primo argomento è il nodo di partenza come al solito il secondo dovrà essere il percorso che verrà restituito fino al nodo destinazione e il terzo argomento lo dovremmo istanziare inserendo un intero che rappresenta la profondità massima della dell'albero di ricerca con questo concetto con questa definizione di predicato ovviamente il percorso dovrà non essere più lungo dovrà essere una lista di città di stati non più lunga di non contenente un numero di stati maggiori di max depth l'implementazione senza accumulatore sarà costituta da due clausole la prima il tappo al solito dice che se già siamo il nodo di partenza è già il nodo destinazione allora il percorso indipendentemente da quello che sarà la massima profondità sarà acquisito dal nodo dal nodo stesso più in generale invece il percorso che va dal nodo alla destinazione sarà un percorso in cui il nodo sarà in testa e il resto del percorso a patto che abbiamo che il max depth non è 0 non è arrivato a 0 ovviamente il max depth viene lanciato con l'intero maggiore di 0 sarà il percorso che si ottiene a partire dal nodo 1 tenendo presente che dal nodo dove siamo si può andare al nodo 1 il percorso che si può ottenere al nodo 1 con il nodo dove siamo in testa e a patto ancora che il percorso che possiamo ottenere dal nodo 1 fino al gol destinazione avrà un limite pari a max 1 dove max 1 è il limite originale che si aveva nel percorso dal nodo a destinazione meno 1 ho cercato di dare una interpretazione dichiarativa di questa clausola proceduralmente avremmo detto così che a patto che verificato che la massima profondità sia ancora maggiore di 0 andiamo a vedere se da nodo possiamo andare a un altro nodo nodo 1 definiamo il nuovo limite come il limite al passo di ricorsione attuale meno 1 e lanciamo ricorsivamente la stessa procedura per cercare il percorso dal nodo 1 fino al gol dandoli però come profondità una profondità diminuita di 1 questa è la stessa clausola però interpretata in senso procedurale allora vediamo come se funziona quindi andiamo nel nostro lanciatore non usiamo più la depth first andiamo a usare la depth limited compiliamo e lanciamo il solito goal chiediamo un percorso darad però non abbiamo istanziato max depth quindi istanziamo max depth per esempio massima profondità 1 false non c'è nessun percorso che darad va a Bucharest con profondità 1 profondità 2 non c'è nessun percorso profondità 3 profondità vuol dire tre mosse sì ce n'è uno che era quello che sapevamo essere il più breve di tutti in termini di numero di mosse e cioè primo salto dar da Sibio secondo salto da Sibio a Fagoras terzo salto da Fagoras a Bucharest l'abbiamo trovato ce ne sono altri no non ce ne sono altri quindi in pratica se noi utilizzassimo incrementalmente la depth limited ed è questo quello che farà poi dopo vedremo la high trade deepening la soluzione che si trova è la soluzione ottimale nel numero di mosse la prima soluzione che si trova ci sono approfondità 4 beh c'è quello di prima che era approfondità 3 poi c'è quest'altro che è approfondità 4 non ce ne sono altri a profondità 5 ci sono i due che abbiamo appena visto però non so se notate interessante notare che il primo che si trova non è il più breve perché ovviamente questa è una ricerca in profondità è andata in profondità a sinistra ha trovato facendo 5 mosse ha trovato effettivamente bugarest e quindi ha restituito questo come primo percorso se poi chiediamo se ce ne sono altri viene restituito un altro percorso che ha ancora 5 mosse 5 mosse come vedete se ne chiediamo altri si trova quello che era ottimale poi ne chiediamo altri si trova un altro ancora 5 mosse poi se ne trova un altro ancora 5 mosse un altro 5 mosse un altro ancora 5 mosse quello di prima 4 mosse un altro 5 mosse e poi cosa stiamo vedendo stiamo vedendo che Dara andata a Sibiu Dara andata a Dara Dara andata a Sibiu Fagras Bucharest e vedete che i percorsi sono più di 10 ma la cosa un po' singolare è che appunto ha fatto lo stesso percorso breve però ha preso ha fatto due volte la tratta ad Aran Sibiu Aran Sibiu Dara andata a Dara Dara andata a Sibiu poi Fagras Bucharest e quindi ha preso il percorso con tre mosse erano arrivate a 5 e quindi Aran Sibiu l'ha potuta fare due volte questo perché l'implementazione della Dep Limited che abbiamo appena visto che non fosse dell'accumulatore non fa il controllo sui cicli e vi ricordo che abbiamo messo questa clausola qui quindi è possibile andare e fare l'arco in entrambe le direzioni non facendo il controllo sui cicli ecco quello che accade se vogliamo evitare questo usiamo un'altra implementazione della Dep Limited che fa invece il controllo sui cicli cioè applichiamo la Dep Limited alla Dep First che abbiamo visto prima quella che faceva uso dell'accumulatore ovviamente alla fine dovremo invertire come abbiamo fatto prima il percorso perché il percorso con l'accumulatore verrà restituito nell'ordine inverso eccola qui se non DFS Limited si con uno due tre quattro argomenti perché adesso abbiamo anche l'accumulatore e funziona così indipendentemente da quella che è la profondità se siamo arrivati già al nodo avendo un percorso parziale PERC questo sarebbe l'accumulatore è qui che accumuleremo i nodi man mano che li andremo a trovare il percorso è semplicemente il percorso parziale che abbiamo appena trovato avendo mettendo in testa il nodo destinazione altrimenti tutto come prima e cioè supposto che non abbiamo raggiunto zero per quanto riguarda max depth andiamo a vedere se dal nodo possiamo andare a un altro nodo facciamo il controllo che l'altro nodo non sia già nel percorso parziale cioè nell'accumulatore quindi utilizziamo l'accumulatore come lista dei nodi già visitati andiamo a vedere se il nodo 1 non sia stato già visitato poi proceduralmente diciamo così diminuiamo max cioè creiamo un valore max che sarebbe max depth meno di 1 diminuito di 1 mettiamo il nodo da cui ci muoviamo nel percorso parziale e cerchiamo un percorso da nodo 1 fino al goal passandoli però come profondità max che sarebbe la max depth diminuita di 1 invece il la variabile percorso che sarà quella che poi utilizzeremo alla fine per restituire il percorso ce la passiamo inalterata quindi il percorso sostanzialmente sarà matchato solo quando si incontrerà il tappo della ricorsione compiliamo e lanciamo lo stesso goal di prima chiediamo cioè se esiste un percorso di lunghezza 1 non esiste compiliamo sì ma abbiamo cambiato sì non esiste chiediamo se c'è un percorso di lunghezza 2 non esiste vediamo se c'è un percorso di lunghezza 3 sì è quello che abbiamo visto vediamo se ce ne sono altri non ce ne sono altri vediamo se c'è un percorso di lunghezza 4 è quello di prima più 1 di lunghezza 4 vediamo se ce ne sono altri non ce ne sono altri i primi problemi li avevamo quando c'era il percorso di lunghezza 5 trova il primo percorso di lunghezza 5 poi trova quello di lunghezza 4 poi trova un altro di lunghezza 5 ne trova un altro di lunghezza 4 5 e non ne trova altri quindi abbiamo che a profondità limitata 5 abbiamo 1 2 3 4 5 percorsi vediamo a lunghezza 6 ovviamente man mano che si aumenta la lunghezza abbiamo tutti i percorsi che avevamo sulla lunghezza precedente più più eventualmente altri lunghezza 7 abbiamo 10 percorsi lunghezza 8 abbiamo gli stessi 10 percorsi per cui è inutile che andiamo avanti abbiamo trovato tutti i percorsi già avete capito che l'idea base della high trader deepening è questa qui è quella cioè di 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 a profondità 1 e questa è sostanzialmente l'idea che seguiamo adesso nella high trade deepening search eccola quella che avevamo prima però la lanciamo all'interno che parte sostanzialmente gli passa node alla defers come profondità inizialmente 1 a questo punto ids chiama dfs limited partendo da un percorso vuoto e con profondità 1 se la trova ok finisce qui altrimenti che cosa fa va alla seconda clausola aumenta la profondità di 1 e rilancia se stessa a questo punto la profondità sarà 2 se trova un percorso verrà restituito altrimenti altrimenti si va sotto aumenta la profondità di 1 che quindi arriverà a 3 e viene lanciata di nuovo ids e così via in maniera iterativa quindi compiliamo e andiamo di nuovo a lanciare l'accumulatore lancerà ids poi al solito il percorso essendo ids sdfs che usa l'accumulatore utilizzerà il percorso invertito quindi dovremmo invertire poi anche noi il percorso ok allora lanciamo lo stesso cerca percorso e qui la max depth non serve perché automaticamente adesso partiremo dalla profondità 1 che fallisce andiamo a profondità 2 che fallisce andiamo a profondità 3 che è successo e trova questa qui in pratica come avete visto nella teoria la iterate drifting search è una emulazione di una bread first per cui troverà sicuramente per prima la soluzione con un numero di mosse ottimale se la facciamo fallire che cosa fa la depth limited rilancia di nuovo se stessa però con profondità maggiore e quindi troverà la stessa soluzione di prima però rilanciamo di nuovo dicevo trova la stessa soluzione di prima più trova quella un'altra soluzione che sarebbe quella a profondità maggiore di 1 e considerando la profondità maggiore di 1 trova quella di prima più un'altra quindi siamo a profondità 4 a questo punto se facciamo fallire trova ritrova tutte le soluzioni che trova prima però ovviamente in ordine diverso perché questa è una depth first trova una a profondità 5 e poi trova quella a profondità 4 poi trova un'altra a profondità 5 un'altra a profondità 4 e così via se facciamo fallire aumenta la profondità di 1 e quindi ritrova tutte quelle di prima e così via questa è la height rate di print search in pratica ad ogni fallimento della height rate di print si rigenerano tutte le soluzioni che venivano trovate nella nella profondità precedente perché la profondità è aumentata di 1 ovviamente in ordine diverso perché è una depth first però la cosa importante da capire è che sostanzialmente abbiamo simulato abbiamo emulato una breadth first tramite una depth first e considerando che la depth first ha un'occupazione di memoria lineare ecco il grande vantaggio della height rate di print search un altro modo per implementare esattamente la stessa ids2 intanto chiudiamo lanciamo ids2 height rate di print search 2 darand ha percorso terminiamo adesso con un'ultima implementazione della height rate di print search molto elegante direi anche geniale perché fa lo stesso lavoro che fa quella che abbiamo appena visto ma senza restituire le soluzioni in maniera ripetuta questa soluzione è basata su questo predicato qui che è chiamato ids2 che è un predicato a tre argomenti ids2 da n1 a n2 percorso che genera percorsi da n1 a n2 di lunghezza crescente restituiti in ordine inverso come funziona? lo lanciamo per esempio in questa maniera lanciamo ad esempio ids2 da arad ha un certo nodo e restituisce un certo percorso vediamo cosa fa la prima cosa che mi fa mi restituisce mi dice che per andare da arad ad arad basta fare il percorso arad in pratica ha matchato con la prima clausola il tappo di questa ricorsione se io faccio fallire quindi il backtracking mi dice che allora a parte il percorso da arad ad arad un percorso più breve possibile è andare da arad a zerind come ha fatto a funzionare? ha matchato con la seconda clausola la seconda clausola cerca un percorso dal primo che è quello che è stanziato a un certo ultimo e mettendo questo ultimo nel percorso parziale semplicemente richiamando se stessa passandoli però il primo che era già stanziato a un penultimo che non è stanziato penultimo perché lo chiamiamo penultimo? no penultimo perché essendo P il percorso che va da prima a penultimo e quindi era il percorso sostanzialmente parziale a cui andremo a inserire in testa ultimo lo chiamiamo penultimo perché dopo vedremo che ci sarà un arco che da penultimo va ultimo e quindi praticamente potete fare il trace per conto vostro ma di fatto quello che accade è che se noi andiamo per risoddisfacimento a far fallire questo questo goal che abbiamo lanciato in maniera sequenziale abbiamo che il percorso più breve vi ho visto era da da se stesso poi c'è un percorso da Arad a Zerind oppure da Arad a Sibio oppure da Arad a Timishoara e abbiamo finito tutti i percorsi lunghi 2 che partirono da Arad poi abbiamo i percorsi lunghi 3 da Arad si va a Zerind a Euradea da Arad si va a Sibio a Tifagaras e così via allora come può essere utilizzato questo programma per calcolare per generare percorsi utilizzando la Depth First in maniera iterativa lo potremo lanciare con un lanciatore di questo tipo ci cerchiamo il percorso in maniera con Lighter Deepening Lighter Deepening Search da un certo nodo iniziale vogliamo la soluzione lanciamo appunto questo IDS2 dandogli il nodo iniziale e lasciando non specificato il goal salvo poi dopo che questo predicato avrà istanziato il goal andare a verificare che quello è effettivamente il goal la destinazione cioè in pratica se noi per esempio lanciamo solve dandogli Arad e basta lui cosa farà prima andrà da Arad e dirà Arad è la soluzione è è la destinazione no poi da Arad la destinazione no da Arad Sibb la destinazione no Timicurara no Oradea no Fagaras no Rimini che dicea no Lugai no Sibb no Bucharest sì e per cui il primo ripercorso che residirà sarà questo qui vediamolo a questo punto lo possiamo anche lo mettiamo nel in ordine quindi lanciamo cerca percorso come facciamo cerca percorso dicevo la profondità a questo punto non ci interessa e come vedete ci restituisce il percorso Arad Sibb Fagaras Bucharest alternativamente Aras Sibb Rimiculcea Pitesti Bucharest alternativamente Aras Sibb Fagaras Bucharest quindi lunghezza 1 2 3 1 2 6 Aras Sibb Rimiculcea Klayova Pitesti Bucharest e così via quindi abbiamo implementato una iTrade Deepening Search in cui le va sempre comunque a rigenerare come avete visto nell'esempio le soluzioni e quindi è una iTrade Deepening Search però semplicemente non vengono restituite l'esempio Sprecher Tre